La Commissione regionale sui tribunali d'Abruzzo ha presentato questa mattina il documento finale, sintesi del lavoro durato un anno e organizzato in 12 riunioni svolte nella sede del Consiglio regionale all'Aquila. Il Presidente Di Pangrazio, che ha coordinato i lavori, ha spiegato l'importanza dell'attività svolta. Per la prima volta una regione attraverso una sua commissione retta da una legge regionale studia questo fenomeno e quindi chiede al Governo ciò che si deve fare per la nostra regione Abruzzo sui quattro tribunali minori. È un lavoro che verrà portato all'attenzione della conferenza dell'Assemblea Legislativa così come all'attenzione della conferenza Stato-Regioni. Le conclusioni contenute nella relazione finale sono un invito al Governo di salvaguardare le attività di tutti i tribunali oggetto della riforma. Si chiede innanzitutto la salvaguardia dei quattro tribunali di Vasto lanciato sul Monavezzano attraverso dati che sono incontrovertibili, attraverso audizioni ma soprattutto attraverso una volontà unica generale della popolazione abruzzese e dell'intera collettività. Alla conferenza stampa hanno partecipato i presidenti degli ordini forensi di Surmona, Lanciano e Avezzano ovvero Piercarlo Cirilli, Franco Corucci e Silvana Vassalli. Il Presidente Di Pangrazio ha annunciato che il prossimo 11 dicembre parteciperà all'incontro promosso dal Ministro Bonafede sugli uffici giudiziari di prossimità, ribadendo che sono cosa diversa dal mantenimento dei quattro tribunali d'Abruzzo rivendicato dalla Commissione.